Concorso per il Ministero dell'Economia. Cerchiamo 500 persone, 80 lavoreranno al Ministero dell'Economia, 420 saranno allocate agli altri ministeri per aiutare, gestire, monitorare, controllare i progetti del PNRR. Cerchiamo 4 profili, profilo di tipo economico, giuridico, statistico, matematico ed informatico, ingegneristico. Come sarà strutturato il processo di selezione? Innanzitutto bisogna avere un requisito d'ingresso che è la laurea. Quindi ci sarà una prova scritta che verrà realizzata con le nostre consuete modalità digitali e poi ci sarà una valutazione per titoli dove a seconda dei vari titoli posseduti, ad esempio un dottorato o un diploma di specializzazione, si riceveranno determinati punti. La scadenza è il 20 settembre, in bocca al lupo e a presto.